ciao villa main come stai senti sei appena arrivata a pistoia per questo blog tour siamo sotto la luna della toscana senti la tua prima impressione di pistoia senti vieni dall'olanda ma i turisti olandesi cosa cercano e come mai vengono in toscana volentieri il sole la cucina italiana un paesaggio bellissimo tutto qui quindi speriamo di riuscitele a mostrare in questi tre giorni che ti tratterrai qui a pistoia bene grazie